1969. Oggi la Link Motors Futignano presenta una meravigliosa Innocenti Mini Minor MK2, vetro scorrevole 848, 43 cv. Immatricolazione settembre 1969. Ultimo tagliando effettuato a maggio 2022. Completamente restaurata in tutto e conservata. Interni in pelle. Iscritta ASI Che aspetti? Contatta la Link Motors Futignano, via Napoleone Buonaparte 116B, allo 080 81 72 831, 377 35 66 041. Segui la nostra pagina web linkmotors.it, filiale Putignano.